Cari fratelli e sorelle, tra il 22 al 26 giugno si svolgerà in Vaticano a Roma il Congresso Mondiale delle Famiglie. La famiglia, scultura vivente di Dio, così come la definisce Papa Francesco, ci aiuta a comprendere la solennità della Santissima Trinità che celebriamo oggi. Infatti, come il nostro Dio non è solitudine, ma comunione d'amore tra le tre persone divine, così la famiglia deve diventare comunione di amore di persone. E come la Santissima Trinità è amore che fa esplodere la vita, così la famiglia è generativa di nuove vite. Cari fratelli e sorelle, preghiamo e difendiamo la famiglia, scultura vivente della Santissima Trinità.